Alla tecnologia, ma venga che voglio presentarli i suoi illustri colleghi, seminari dell'ingegneria, guardi chi c'è, il professor Gutierrez dell'Università di Salamanca, manca, provvediamo professore, un esempio professor Smith del Politecnico di Berlino, professore complimentissimo, è lui, è lui, è lui, il poliedico, il professor Jones, è lui, del Massachusetts Institute of Technology, Massa, Massa, piacere, ingegner Quaccarullo, Massa, Massa, Massa Lubrense, Campania, Napoli, Italia, si, mondo, stammalanzo, si. Ja, Schmidt, Herr Brezelberger, wie reizend, ja, legen Sie mir das doch alles auf den Schreibtisch und ich sehe es mir irgendwann mal an, bis dann. Questa essere nuova grande invenzione di tecnologia di Germania, non serve più cellulare, grazie a un chip infilato sotto la pelle di mano. Un chip, guardate in un chip, che fa, guardate, guardate, incredibile, è vero? Sì, well, I'll get out of the DCM and find out who the way I follow you. Pazzesco, pazzesco. Yeah, let me know, call me back. Questa nuova tecnologia americana. È incredibile. Non più telefonino. No? Qui, microchip, in gola. Chip, chip e chop. No, 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 no. È successo niente, questa è nuova tecnologia napoletana. È appena arrivato il no fax, eh? Scusate, magari legge il no fax, arrivederci. Professore, le stavo dicendo, quando andremo a scienze... Grazie a tutti